Sicilia, terra metafisica, di Massimo Onofri. Quando si parla di Sicilia sarà forse bene tenere a mente la battuta che Fabrizio Corbera, principe di Salina, rivolge nel gattopardo al continuo Carlo Cavriaghi, l'amico carissimo del giovane Tancredi. Senta, Conte, lei credeva che in Sicilia non piovesse mai e può vedere invece come diluvia. Non vorrei che credesse che da noi non ci sono i polmoniti e poi si trovasse a letto con 40 di febbre. In effetti sulla Sicilia non c'è niente di più comune dei luoghi comuni, col rischio appunto di trovarsi del tutto impreparati a qualsiasi viaggio e magari arrivare a morire di freddo come in una città del nord non accadrebbe mai. Sempre per restare a discorsi di tipo meteorologico, solo apparentemente fatui, basterebbe andare a leggersi quel che della Sicilia di montagna hanno scritto Giuseppe Antonio Borgese ed Elio Vittorini. Borgese delle Madonie, sopra Palermo e Cefalù, trasfigurando la sua polizia generosa nella Calinni del romanzo Roubaix del 1921. Vittorini dei messinesi Nebrodi e di quei paesi di una Sicilia civica e rigorosa, il contrario esatto di quella dei carretti, delle coppole e della mafia, che lo scrittore diceva Lombarda, in ciò seguito anche da Vincenzo Consolo per un capitolo di storia letteraria che da conversazione in Sicilia del 1941 potrebbe arrivare sino alla ferita dell'aprile del 1963. La prima idea ricevuta di cui sbarazzarsi, insomma, sembrerebbe proprio quella che la Sicilia, stando al titolo di un libro oggi dimenticato di Luigi Capuana del 1882, ma fortunatissimo e fondativo per più riguardi, del discorso sulla sicilitudine, sia rappresentabile appunto come l'isola del sole, e cioè la terra in cui tutto si disegna splendidamente a giorno, con i contorni netti, nella nuda evidenza del paesaggio, dentro verità supremamente materiali. Il materialismo della cultura siciliana, di cui parlò più volte Leonardo Sciascia, tale almeno sino all'avvento, per lui nefasto, dell'idealista Giovanni Gentile di Castelvetrano. Gli antichi greci, in tal senso, la sapevano lunga, o forse soltanto diversa. Sarà un caso, per dire, che da una grotta incommensurabile come un abisso, Ade emerse all'improvviso con una biga per rapire la vergine Persefone e poi scomparire di nuovo in quelle profondità, al posto delle quali si formò per prodigio il lago di Pergusa, che precedentemente ancora sonnecchia sotto la superna enna? Ce lo dovremmo chiedere, io credo, perché proprio in Sicilia, e sotto quelle acque sonnolente e infide di lago, i greci hanno voluto collocare l'accesso al mondo dei morti, la linea che separa il visibile dall'invisibile, che in Sicilia l'invisibile e le verità della notte trionfinò non di rado sull'esorbitanza del giorno e della luce, quella luce in cui, non a caso, il italiano Brancati Postremo di Paolo il Caldo del 1955 ravvisò una profonda natura di tenebra, è testimoniato da un altro luogo in cui la morte pare giocare strani scherzi. Sto parlando delle catacombe dei Cappuccini di Palermo, oltre Porta Nuova in direzione di Monreale, vicino alla chiesa di Santa Maria della Pace, cui si accede attraverso una piccola porta e un'angusta scalinata. Lo spettacolo è da subito impressionante. Si tratta di duemila cadaveri, imbalsamati e perfettamente vestiti con abiti d'epoca. L'ha reclusi secondo differenze di genere e di professione, oltre ai frati, uomini, donne, professionisti e professori, persino famiglie intere, con l'inquietante reparto dedicato ai bambini. Fra il 1599 e l'inizio del 900, i cui nomi sono tutti annotati in quattro registri a partire dal 1666, essendo andato perduto il primo che includeva i nomi dei frati e dei pochi laici allora messi all'inumazione, per non dire dei collatoi, dove venivano posti i cadaveri per la scolatura e l'essiccazione, in vista appunto della mummificazione. Lo stato di conservazione dei cadaveri, in non rari casi, è davvero stupefacente e quasi incredibile nel caso della bambina Rosalia Lombardo, morta nemmeno due anni, il 6 dicembre 1920, di broncopolmonite o forse di difterite o magari di tifo addominale, a tutti nota come la bella addormentata. Adagiata in una piccola bara, ci separa solo una teca di vetro, un fiocco giallo che raccoglie i capelli, la frangetta sulla fronte, gli occhi socchiusi e le lunghe ciglia, l'apparenza di un sonno che più sereno non potrebbe essere. Un drappo viola sul petto, con sopra l'immagine del bambino Gesù. Eppure, stupita e isperata, un'impressione davvero incancellabile resta, dopo la vista ripetuta di tanti cadaveri imbalsamati. Poco importa se distesi nelle bare o uncinati al muro, se uomini col saio o in uniforme militare, col berretto e gli alamari o con la giubba e i calzoni di velluto, o invece se donne vestite di seta e lussosamente merlettate, con cuffie dalle fogge più diverse, o con corone di lamiera proprie di quelle non maritate. Questa impressione, che tra tanta oltranza di morte, alla fine si inveri, in una forma paradossale, l'insegnamento di Epicuro, che quando la morte c'è non ci siamo noi e che, con questa mancanza di noi a noi stessi, sortisca tra tanta morte anche l'annullamento della paura e dell'angoscia di morire. Oppure, viceversa, si potrebbe affermare che ai cappuccini di Palermo la morte si vanifica per troppa presenza. È proprio lì, insomma, che la morte muore. Mi chiedo se non stia proprio qui, nel sentimento di tale dilagante vacuità, al cavo e cieco suono che sopraggiunge dalle mummie delle catacombe, l'origine di quel gesto parossistico, di quell'ostinata bizzarria che, sempre in Sicilia, ha voluto e saputo celebrare, di contro, l'insensatezza della vita, con un'insolenza che è diventata addirittura monumentale. La luce e il lutto, insomma, per restituire, sotto altra guisa e con più radicale significato, il titolo di un bel libro di Gesualdo Bufalino. Mi chiedo, insomma, se non sia questo irredimibile sentimento della morte, ad aver generato lo sfarso opposto, lo sperpero ludico ed eufericamente puerile che ci hanno consegnato il barocco siciliano, a cominciare dalla sua realizzazione più inquietante e beffarda, più risentita contro la luce e la vita, e cioè quella villa palagonia di Bagheria, la farnetica villa dei mostri, insomma, che Francesco II Gravina Cruillas e Alliata, settimo principe della casata, abitò dal 25 novembre 1722, ovvero il giorno della sua nascita, fino a quello della sua morte, avvenuta il primo maggio 1788, e che popolò di esseri deformi e stupefacenti. Stiamo parlando di mostri di pietra, i quali, sottoposti all'implacabile corrosione dei secoli, l'aristocratico siciliano volle disseminare nel giardino, accostandoli alle pareti o posizionandoli numerosi in cima ai muri, non di rado incombenti, in tutta la loro fragorosa e oscena ilarità, su quel lungo viale d'accesso che, claustrofobicamente, si incunicola tra le alte mura di cinta. Si tratta di statue di dame e cavalieri, di singolari figure antropomorfe, di animali fantastici, frutto di una sfrenata fantasia misantropica e beffarda. Dicevo del barocco siciliano, nell'isola ha lasciato un iperbolica e bellissima traccia, che vale, bisogna aggiungerlo, come sicura testimonianza di sé, di un profondo sé isolano, con significato più metastorico che storico, più metafisico che fisico. Come altro leggere del resto, nel secolo appena trascorso, gli sparsi di stile, l'audace concettosità, l'oltranza paradossale e multanime della verità, i scrittori quali Stefano d'Arrigo, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri e Vincenzo Consolo. Il barocco, insomma, come modalità perenne dell'esistenza, come categoria dello spirito, che ha trovato, nella concreta vicenda dell'isola, le sue storiche e stupefacenti realizzazioni, indolentemente trasformandole in simboli e stemmi di una specie d'araldica del vivere, da Catania a Noto, da Ragusa a Ibla a Modica, da Trapani a Palermo. Una modalità che coniuga contemporaneamente e dentro una perenne vanitas vanitatum, la monumentalizzazione parossistica di ciò che è inane, fatuo e costitutivamente transuente, con un'attitudine scenografica su un palcoscenico che sembra quasi affacciarsi sul nulla. Prendete, per fare un solo esempio, la lavica Catania, che si rinserra in se stessa, come murata, dando quasi sempre le spalle al mare e facendolo come scomparire, per chissà quale sortileggio, alla vista di chi, da turista, percorre il suo centro. Si dice che il duca di Camastra, dopo il terremoto del 1693, abbia ridisegnato in groppa al suo cavallo il piano regolatore attraversando una città ridotta a un ammasso di rovine. Sicché non ci si deve per nulla sorprendere che in un luogo così, celebre anche per quella sensualistica idea della vita che da licenzioso e settecentesco, Domenico Tempio, arrivi sino ai novecenteschi, poco importa se Ilari o Ipocondriaci, Vitaliano Brancati ed Ercole Patti, Giovanni Battista Vaccarini, o un allievo da lui ispirato, abbia potuto concepire una via di sortileggi e illusioni, che oggi diremmo vocata agli effetti speciali, come via dei crociferi. Provate a risalirla. Come aveva già notato Cesare Brandi, il palazzetto della Badia di San Benedetto, la chiesa di San Giuliano e quella di Santa Chiara non si allineano sull'asse prospettico della strada, ma collaborano nel disallineamento a una prodigiosa architettura di vuoti, tanto più vertiginosa, quanto più giocata in contrapunto ai solidissimi pieni delle blasonate facciate. Da via dei crociferi non è difficile raggiungere il giardino della città, Villa Bellini, e attraversarne il viale con i busti degli uomini illustri, dove andava ad amoreggiare il protagonista di Don Giovanni in Sicilia, di Brancati. Sarà forse per questa metafisica della carne e del desiderio, per questo gioco di illusioni monumentali e monumentalizzate, che in nessun altro posto del mondo si ama così trepidamente e ansiosamente, come tra via Etnea e questa villa odorosissima? Sarà per questo che soltanto in Sicilia, il mese dei morti, mese di feste, quanto altri mai, può risultare dolcissimo il più dolce di tutti, come attesta sin dal titolo un romanzo di patti del 1967 e cioè un bellissimo novembre? Ne sono convinto. In Sicilia sorge la luna più leopardiana in Italia, laddove le notti di chiaro intensificano i sentimenti, sciolgono i cuori e illuminano gli amanti, anche più incauti, come altrove non avviene mai. Provate a raggiungere da Catania la provincia che gli altri solani chiamano Babba, cioè Bonaria fino alla sprovedutezza, perché priva di mafia, seppure oggi non sia più vero come una volta, ovvero la provincia di Ragusa. E fatevi una passeggiata a Ibla o Modica, la capitale dell'antica contea, non per niente patria struggente della cioccolata e della cremolata. Ho detto Ibla, l'aristocratico borgo abbandonato dopo il terremoto del 1693, che è raccordato alla Ragusa soprana e borghese, poi fascista e compresa di sé negli affreschi del palazzo della prefettura di Duilio Cambellotti, da una scalinata di 340 gradini, da percorrere tutta e pigramente, magari con una mata per mano, quando, appunto, quella luna leopardiana è a picco. Ibla, barocca e silenziosa, di tuffi dolci e chiari, dove il duomo di San Giorgio, quasi a sfida dell'omonima e rivale chiesa di Modica, trionfa sghembo e solitario sulla piazza. E non lontano da lì, Ispica, con le sue avventurose e primordiali cave, ma soprattutto Scicli, che ha nel cielo il mistero degli azzurri di Piero Cuccione, il quale vive lì, in campagna. Scicli, col prodigioso e ciclopico contraforte della chiesa di San Matteo, ove si veneravano le reliquie del beato Guglielmo Eremita, lassù, in alto, ove la città era sorta, quale borgo fortificato, per difendere la via lungo il fiume, oggi non più che uno stremato torrente, non che il fertilissimo entroterra. Quella Scicli, che, in basso, trionfa nella cava di San Bartolomeo, con la chiesa omonima, maestosa e imponente, sullo sfondo delle vertiginose e ripidissime pareti rocciose, che conserva una deposizione attribuita a Mattia Preti. Ibla e Scicli, insomma, termini opposti di un eterno gioco di sistole e di astole siciliani, dentro un paesaggio che è già una nostalgia.